24 aprile, terza edizione di TEDx Verona che ogni anno porta sul palco, sulla scena a Scaligior, alimenti più brillanti in merito soprattutto all'ambito dell'innovazione. Quali saranno i protagonisti di quest'anno? Per parlare di quelli veronesi sicuramente Linda Vesani, che è una ricercatrice nell'ambito delle biotecnologie all'Università di Verona, che ci racconterà la sua ricerca sulle piante per riuscire ad ottenere dei nuovi farmaci. Possiamo parlare sicuramente anche di Giovanni Andrea Prodi, dell'Università di Trento, che è il professore che ha coordinato i lavori da parte italiana per la Virgo, la ricerca europea, sulle onde gravitazionali. E poi ci sarà una cosa molto curiosa riguardo all'alimentazione, grazie a Marco Ceriani. Non vi voglio anticipare troppo, ma vi dico che si parlerà di insetti.